Liberiamo la linea bianca, oggi decide di piantare qualche piantina creata nel giardino del piccolo mondo antico creata apposta per questa giornata, le piantine del nespolo e le piantine dell'alloro. Siamo in un bosco di aceri, è un'invasione di aceri, quindi diciamo che le piantine vivranno molto bene in questo luogo abbiamo scelto questo tipo di altare naturale, adesso qui lateralmente pianteremo due nespoli così poi quando cresceranno ci doneranno i loro frutti squisitissimi. e poi pianteremo qua e là qualche alberello di piantina, poi diventerà alberello di alloro.